Tutto pronto in casa Leoni Sicani per il debutto nel nuovo campionato di serie A2 di hockey su carrozzina elettrica. L'esordio sarà a Casalingo, a Santa Margherita di Belice, presso il Barbera Center contro le Aquile Palermo, con incontro che si disputerà domenica 22 ottobre alle ore 11. L'ingresso è gratuito. La squadra comprensoriale, dopo la retrocessione dello scorso anno, si pone l'obiettivo della pronta risalita nella massima serie. Il girone, in cui giocherà il team capitanato da Giuseppe Sanfilippo, è composto anche da Aquile Palermo e da due squadre toscane, una di Scandicci, ossia i Lupi Toscani, e l'altra di Firenze, ossia la Fiorenza. Il torneo ovviamente si svolge sotto legida della Federazione Italiana Paralimpica Poverchire Sport. Dopo il debutto, particolare sarà la trasferta in Toscana. Domenica 29 ottobre, infatti, i Leoni Sicani giocheranno due incontri in un solo giorno, di mattina contro i Lupi Toscani e di pomeriggio contro la Fiorenza. Le partite di ritorno, invece, si disputeranno nel nuovo anno, a febbraio e marzo 2024. La prima classificata del girone avrà accesso ai play-off promozione, che si giocheranno a maggio all'Ignano Sabbiadoro. Per i Leoni, quello che comincerà domenica sarà ufficialmente il quattordicesimo campionato consecutivo di hockey su carrozzina elettrica, una sorta di record per una società che promuove l'inclusione sociale attraverso lo sport. Una squadra, infatti, che riunisce atleti che provengono dalle province di Agrigento, di Palermo e di Trapani, unendo in campo i comuni della Valle del Belice con quelli delle terre sicane. Come sempre, i Leoni Sicani presenteranno una formazione competitiva, dove i veterani sanno ben amalgamarsi con i ragazzi più giovani e con meno esperienza agonistica.